Che i derby siano gare diverse, questo è verissimo, che la classifica in un derby non conti è altrettanto vero. Tutti i dogmi dello sport che domenica al Palamanzini hanno voluto confermarsi. Il derby di Serie D, volley tra la capolista Vega Ucchiali Rosalziora Verbania e Paffoni Pallavolo Megna, davanti a un pubblico di categoria superiore, è stata una maratona di oltre due ore di gara vinta da Verbania, che resta imbattuta ad una partita dalla fine del girone di andata. La squadra di Matteo Azzini è giunta al Palamanzini giocando una partita aggressiva e da tratti ha anche messo in difficoltà una Rosalziora che ha sbagliato un pochino troppo ed ha certamente risentito delle tensioni che l'appuntamento regalava. In una palestra gremita le Verde e Viola hanno vinto il primo set 23-25 portandosi sull'1-0, nella quale hanno picchiato forte nel secondo set, vincendo nettamente 25-9, ma nel terzo parziale Omegna si è portata sul 2-1, vincendo ai vantaggi 27-29 dopo una sequela di punti set annullati da entrambe le parti. Il carattere delle Verbanesi di Andrea Cova ha poi vinto il quarto set 25-19 ed il tie-break 15-12. Il 3-2 mantiene in vetta Vega Occhiali Rosalziora che pur perdendo un punto su Gaglianico e San Maurizio, entrambi vincenti 3-0, guida la classifica con 5 punti di vantaggio sulle due formazioni appena citate. Omegna col punto conquistato e sopra la zona pericolosa della graduatoria. Abbiamo sbagliato più del solito, ha spiegato il tecnico Verbanese Andrea Cova, ma sotto 2-1 la vittoria siamo andati a prendercela. Bene che siamo arrivati in fondo in piena forma, grazie al lavoro atletico che facciamo con Andrea Castellan. Ci prendiamo questa vittoria, questi due punti, ed andiamo avanti. Gli fa eco Matteo Azzini, contro una squadra da vertice alle ragazze avevo chiesto soprattutto la prestazione e sono soddisfatto della loro gara. La squadra aveva un focus ben preciso e lo abbiamo raggiunto. Questo gruppo qui lavora davvero tanto e vorrei vedere questa cattiveria anche in futuro, unita ad una certa continuità. Dopo la partita, bellissimo terzo tempo, con un rinfresco offerto dalla squadra di casa, tutti presenti, degno finale di una partita tesa e tirata. Un derby, semplicemente. Grazie. Grazie. Grazie.